Il Pescara conta i danni senza pace con l'infermeria che si allunga. Raffaele Schiavi si è sottoposto ad esami strumentali con esiti tutt'altro che felici. Il difensore infatti, come evidenziato da risonanza e tac, ha un problema al ginocchio e dovrà fermarsi per almeno due settimane per poi riprendere a lavorare gradualmente. Per la sfida al Brescia, vista l'assenza di Capuano e le non perfette condizioni di Ciosic, esordirà quasi sicuramente al centro Zuparic, provato da Marino nella difesa a tre con gli esperti Zauri e Bocchetti. Comunque, defezioni a parte, il Pescara è chiamato al successo per risalire ulteriormente la classifica. Il Brescia è avversario di rango, tante vecchie conoscenze tra le rondinelle, oltre a mister Bergodi, Tommaso Coletti, centrocampista, autore del ritorno in Serie B. In caso di vittorie, i bianco-azzuri scavalcherebbero i Lombardi e si porterebbero a quota 14 respirando. A Maurizio Mariani di Aprilia il compito di dirigere il match. A suonare la carica il centrocampista Antonio Ragusa. È un periodo in cui dobbiamo continuare a fare bene. Certo, se arrivassero i tre punti sarebbe il massimo, però non dobbiamo farci prendere dall'ansia di vincere per forza, perché rischiamo solo di compromettere la partita. Quindi giocare come sappiamo e sfruttare le occasioni che arriveranno. Loro giocano con un 3-5-2, se non sbaglio. Ci sono ragazzi che conoscono il mister perché ci hanno avuto un periodo l'anno scorso. Noi dobbiamo solo giocare come sappiamo perché abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. E poi l'unica cosa è che bisogna concretizzare quelle occasioni che ti arrivano perché sono quelle che fanno la differenza. Grazie. 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 Grazie.